Bianchi che meritava questa appesione Ancora Cerci devastante, stasera sulla corsia di destra, uno sguardo al centro Bianchi, Rolando Bianchi, eccola l'addio del Capitano Sono 77 in maglia granata, Rolando Bianchi, Torino 2, Catania 2 Meglio di così, non poteva dire addio Una firma su una serata indimenticabile per lui Se lo meritava Questo è il suo momento, godiamocelo insieme Il dicesimo gol in questo campionato per Rolando Bianchi Chiama il Capitano, risponde alla maratona Meravigliose anche le lacrime di papà e mamma Bianchi Ad un passo da piangere anche il fratello Ha preso benissimo la posizione in confronto di un avversario che tratteneva Dietro di sé con la maglia da Bellucci che andava a raccogliere la posizione del Capitano Ma con forza, con capabilità, tutta la voglia che sentiva Sentiva che di quella aveva bisogno di... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti